La Trentino Volley, che si conferma fra le quattro squadre migliori in Italia, fra le sette migliori in Europa, però, insomma, amante un po' io della statistica, gliene faccio una un po' cruda, poi dopo la andiamo a sviscerare. Erano undici anni che la Trentino Volley non partecipava almeno ad una finale fra le competizioni nelle quali Milita in Italia e in Europa. E quindi, qual è il suo giudizio? Cioè, è un bilancio soddisfacente per la crescita esponenziale che avete avuto, per il crescendo continuo che avete avuto, o forse sotto le aspettative? Io penso che, al di là del gusto della statistica, il confronto... Che è prettamente giornalistico, eh? Il confronto e il paragone in generale, non solo nel campo sportivo, è sempre un qualcosa di violenza, no? Sì, infatti ho premesso che era crudo, come dato. Perché la violenza deriva dal, secondo me, dall'ingiustizia del dover confrontare dati non simili. Ha ragione. Perché diverse sono le rose con cui si scende in campo, diverse sono i valori delle varie annate. Io, con questo, non vuol dire che devo considerarmi, rispetto all'annata che abbiamo passato, completamente soddisfatto. Ma, tuttavia, non posso non sottolineare il fatto che, alla partenza, sapevamo che, nelle manifestazioni che andavamo a disputare, dovevamo lottare per arrivare in semifinale, poi cercare di fare qualcosa di extraordinario per cercare di entrare in finale. Questo extraordinario non l'abbiamo fatto. Anche se ci siete andati vicini, no? Non ci mette al riparo da analisi anche, diciamo, critiche all'interno nostro. Tuttavia, dobbiamo capire che i cicli sono i cicli. Ci sono stati i cicli di Treviso, ci sono stati i cicli di Trento. Adesso penso che la Pallavolo, ci sono due squadre che stanno investendo tantissimo. E penso che per noi sarà importante impostare un periodo dove dobbiamo tenere duro, il Trento dovrebbe tenere duro, dovrebbe cercare di rimanere nell'alto, cosa non facile, perché altre società si stanno attrezzando molto bene. E se ci riuscirà di rimanere nell'alto, provare ogni tanto una zampata. Ha concluso, lei personalmente, la stagione con qualche rimpianto? Noi da osservatori sì, però, insomma, è il suo giudizio che conta? Beh, l'uscita dal campo di Perugia mi ha lasciato un po' di rimpianto, non di sicurezza che le cose potevano andare diversamente, però oramai eravamo in un trend di gioco, non dico proprio la pari, però simile, non essere riusciti a portare via un set che magari poteva dare dell'insicurezza alla squadra avversaria, mi ha lasciato la mare in bocca, anche perché l'opportunità l'abbiamo avuto non solo nel terzo set, ma anche nel secondo set, dove eravamo riusciti a strappare un bel vantaggio e dove Perugia, in virtù delle sue qualità, soprattutto per quel che riguarda il servizio, è riuscito a recuperarle in maniera veloce, però insomma, io speravo di poter strappare un set lì e poi vedere anche la reazione degli avversari, perché quando giochi con squadre che sono più forti, tu devi sicuramente esprimerti, non dico al massimo, ma qualcosina anche di là e qualcosa ovviamente ti deve dare anche la squadra più forte, perché altrimenti vincono loro e questa stagione che abbiamo passato è la testimonianza, nel senso che all'inizio dell'anno dicevamo che si diceva che queste due squadre avessero la rosa più forte e il fatto di essere andati in finale in tutte le manifestazioni che loro hanno disputato, penso insomma che... Quanto le hanno fatto piacere le parole del presidente Diego Mosna, un presidente vincente che in 18 anni ha vinto tutto e di più, che analizza questa stagione dove dicevo non si vince niente, non si arriva in finale, ma diciamo così, è così sensibile, visto che è un termine che va abbastanza di modo in questo periodo, nel rilevare il fatto che la vostra stagione è stata un continuo crescendo, che siete riusciti a dare dignità ad una stagione tanto in Italia quanto in Europa, che le prestazioni di squadre individuali sono cresciute esponenzialmente durante la stagione, cioè non è una cosa banale, almeno io ho letto la lettera del presidente in questo senso, cioè apprezzandola molto, perché non è figlia dei risultati, diciamo così. Cioè più, posso dire quello che ho sentito dentro, insomma che più del piacere e l'orgoglio, l'orgoglio di poter lavorare in una società guidata da una persona che comunque è quello anche che è detta la comunicazione, che è detta lo stile con cui anche venire al Palatrento, e mi sembra che nelle sue parole ci sia un cambio di paradigma importante per come siamo abituati noi a parlare di sport. Questo non significa che bisogna darsi la pacca sulle spalle, ma bisogna anche rendersi vulnerabili al fatto che degli investimenti che fanno gli altri, e che c'è stato un momento in cui hai goduto tu, magari adesso mettersi, mettere la testa sotto la sabbia per aspettare il momento tuo, tuttavia in questo periodo qui dove la vittoria non è facile da conquistare, tu devi lavorarci e nel lavorare devi, secondo me, quando dicevo il cambio di paradigma, devi piuttosto che guardare il risultato finale o mirare alla perfezione, cercare l'eccellenza che è quello che ti porta a cercare di rendere al massimo per quelle che sono le tue potenzialità. E qui dopo c'è uno sport, si gioca con l'avversario, se l'avversario, nonostante il tuo lavoro dimostra di essere più forte, diciamo di fargli l'applauso, Trento l'ha ricevuto per tanti anni, adesso credo anche che sia il momento che Trento stia ad applaudire delle società, degli ambienti che sono carichi, che si vede l'elettricità quando entra il palazzo di Perugia, insomma che ricorda abbastanza l'inizio della scalata della Trentino Volley. Il tenere duro è un qualcosa, la costanza di esserci è un qualcosa che lo sport premia e quindi se Trento continuerà su questa strada sicuramente ritornerà ad alzare le braccia alla fine di un torneo. Si può, si deve ripartire da questo gruppo, lo si diceva anche nel servizio che è cambiato molto la scorsa estate, 10 nuovi innestri, appena 3 riconfermati dalla stagione precedente. Sì, il dovere è un qualcosa che secondo me non esiste perché bisogna stare a guardare cosa il campionato ha detto, sapere anche che tutti i dati e forse qualche valutazione che abbiamo fatto anche noi lo scorso, magari ritornando indietro sarebbe modificabile perché questi ultimi 4 anni hanno dimostrato che il campionato italiano ogni anno acquisisce uno step superiore. Quindi nei dati, nei quelli che noi abbiamo visto quest'anno dobbiamo mettere poi dopo un qualcosa di quello che sarà. E sicuramente lo sarà perché le due squadre che oggi si disputano lo scudetto hanno già fatto degli investimenti importanti che le renderanno ancora più forti. Il fatto che quest'anno non ci saranno le retrocessioni dopo tanti anni, dopo alcuni anni, vuol dire che il livello medio crescerà, vuol dire anche che bisognerà fare attenzione con il budget perché all'improvviso certe squadre che magari non avendo le retrocessioni potevano accontentarsi, quest'anno non si accontenteranno, i giocatori sono sempre quelli, quindi cresce tra domanda e offerta. La domanda diventa un pochettino più esigente e l'offerta è sempre quella, e quindi bisognerà fare attenzione al budget e allo stile che noi vorremmo dare. Il gruppo ha fatto, noi abbiamo cambiato tantissimo, nel farlo sicuramente ci sono state delle sorprese positive e delle cose che ci aspettavamo dei rendimenti migliori. Come dicevo uno scorso, io credo che tutte le scelte che vengono fatte possono essere fatte nei limiti degli errori, questo è sicuro, ma non vengono fatte né per motivi personali o per dolo di altro tipo, quindi si cerca sempre di fare il bene del Trentino Volvin. Ascolti, lei in 30 anni di carriera da allenatore ha allenato grandissime squadre, grandissimi giocatori. Mi dice se Simone Giannelli lo è già o diventerà uno dei più forti palleggiatori della storia della pallavola italiana? Le rispondo dicendo che non è facile rispondere per tutti, nel senso che quando si parla di Simone è un mondo che anche io non ho mai conosciuto, perché è vero che ho avuto la fortuna di stare vicino a grandi campioni, ma non così giovani e non già così maturi. È stata una sorpresa l'anno scorso, l'è stata soprattutto quest'anno, perché si è trovato a gestire una situazione difficilissima, dove un ragazzo così giovane stare nella sofferenza anche tecnica per un certo periodo non è facile. Io credo che per lui quest'anno sia stato un percorso più virtuoso di altri, perché quando tu entri dentro la sofferenza e poi riesci a bucarla e riuscirla, vuol dire che ti porti dietro un valore che non è solo tecnico, ma anche di leadership. Questo ragazzo qua ha chiaro cosa vuol fare, vuol diventare il più forte, lo vuol fare con uno stile che è professionale, importante, ma che non toglie niente alla sua vita privata è già tanta roba, io penso che diventerà tantissima roba. Bene, belle parole. Stefano Carta per il coach. Sì, per il coach. Lui ha allenato a Padova, Modena, Piacenza, Verona. Cos'ha? Trento di diverso rispetto a queste piazze? Allora, come sempre, come ho detto prima, insomma, io mi metto a parlare di Trento, anche perché ho avuto la fortuna, insomma, a parte qualche annata dove non è andato benissimo il risultato, insomma, di avere sempre un feeling importante con l'ambiente. Trento per me, quest'anno è stata speciale, soprattutto, perché come dicevamo prima, quando una piazza è abituata a vedere altri risultati, ad assistere altri risultati, a non soffrire così tanto con certe squadre, normalmente, la storia anche del volo ci ha insegnato che diventa una piazza col dito puntato. E quel dito puntato, oltre che non conveniente, ma non aiuta. Noi sentivamo la responsabilità di dare a Trento un qualcosa di meglio, questo è sicuro, ma non abbiamo mai avuto il dito puntato. E questa cosa qua, secondo me, nello sport, per come si è abituato adesso, anche con questi social che aumentano, il clamore di una palla, di un risultato, di un'intervista. Il trovare qua un ambiente importante e che ha saputo anche guardare al di là di quello che accadeva la domenica, per me è stato, ripeto, un motivo anche di sorpresa e adesso di orgoglio. E se non c'era questo Trento qua, questa stagione qui sarebbe stata partita complicata, non so se si sarebbe risolta, perché era un gruppo nuovo e che quindi anche in termini di leadership non aveva delle gerarchie ben definite. E se tu quando giochi in casa sai di non entrare in un palazzetto veramente amico, ma se sai di entrare in uno palazzetto di spettatori, non di tifosi, allora le cose si complicano. Noi tutto il contrario abbiamo avuto e di questo insomma gli mando ancora un grazie immense, perché insomma è sicuro che non è una stagione che va attaccata a tanti trofei che questa città, però quello che ho vissuto io quest'anno non me la tengo dentro perché è una cosa molto importante e so di essere fortunato perché tanti altri colleghi non hanno avuto la fortuna di vivere quello che ho vissuto io. E poi volevo chiedere qual è il giocatore che quest'anno ha fatto più progressi e qual è magari quello che non è ancora così convinto dei suoi mezzi? Che non ha convinto? Io ho adulcurato un po' la domanda, è stato bravo, ha detto quello che ha reso meno. No, no, è stato bravissimo. Ma bisogna nascondere il senito anche perché abbiamo già parlato con qualche ragazzo. Io credo che ci sono stati dei ragazzi molto importanti che all'inizio dell'anno venivano definiti come seconde linee che sono Cosa Mernic, Teppan, Og, che hanno dato tanto e lo hanno dato in virtù di un lavoro importante in palestra di un lavoro importante in palestra soprattutto anche nei momenti in cui l'allenatore gli dava loro poche soddisfazioni. Dall'altro canto insomma abbiamo avuto il fatto che l'opposto della nazionale su quale noi abbiamo costruito un progetto spesso e volentieri non è stato schierato il titolare vuol dire che qualcosa non è andato. Il capire cosa non è andato non è facile perché io ho avuto questo ragazzo a Modena e dal punto di vista della motivazione, dell'atteggiamento l'ho ritrovato migliore qua rispetto a Modena tuttavia qualcosa non è andato e non è andato per un lungo periodo. Questo è un'analisi che assolve dal punto di vista umano quello che è successo però complica anche per la vita e il futuro perché se tu non sai per cosa è successo non sai nemmeno dove andare a lavorare per migliorare. Poi credo che Kovacevic al di là insomma di questa stagione iniziata male per gli importuni io penso che è un ragazzo che può diventare più forte, lui lo può diventare e nel poterlo diventare bisogna produrre delle azioni di costante miglioramento professionale e tecnico e quelle azioni insomma ecco vedete voi qua non sono fatte dal divano di casa sono fatte in palestra saltando, sbattendoti e gliel'ho scritto proprio oggi Trento l'ha preso per questo e Trento vuole questo. Grazie mille! 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 Grazie a tutti.